Prego Assessore. Grazie Presidente, grazie a tutti consiglieri e cittadini presenti. Per quanto concerne questa assemblea straordinaria che è stata convocata, soprattutto sul tema a noi molto caro, riguardante gli immobili del patrimonio del Comune di Roma, in particolare il patrimonio indisponibile e il patrimonio... Così un attimo Assessore, così non possiamo proseguire. Invito il pubblico presente a stare in silenzio, ringrazio il personale. Bene, prego. Grazie Presidente, riprendo. Per quanto riguarda il tema che oggi ci troviamo a dibattere, e per il quale è opportuno che anche questa amministrazione dia comunque delle indicazioni in merito a quello che è stato fatto fino adesso e soprattutto rispetto a quello che abbiamo ereditato. Volevo leggervi una relazione dettagliata a riguardo. Allora, direi che va osservato preliminarmente che gli attuali problemi in materia di riacquisizione degli immobili iscritti al patrimonio di Roma Capitale, a suo tempo affidati a terzi e poi trovati in condizioni di irregolarità per scadenza delle concessioni originarie, cioè non rinnovate, oppure per mancanza di titolo originario o ancora per morosità totale o parziale dei concessionari, non possono essere valutati con riferimento alla sola disamina della deliberazione in questione e della sua eventuale non corretta applicazione. Stiamo parlando della delibera di giunta comunale 140 del 2015. Bensì va vista in connessione anzitutto con le vecchie deliberazioni consigliare, in particolare la numero 5625 del 1983, la numero 26 del 1995 e la 202 del 1996. La prima, quindi la 5625 dell'83, ha dato corso al regolamento delle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile comunale. Mai interamente abrogato e da cui origina la classificazione delle tipologie di concessione di fatto ancora vigente. Le varie tipologie sono per esempio quelle a canone di mercato per tutte quelle attività che vengono considerate imprenditoriali. A canone ridotto, 20% del canone di mercato per tutte quelle concessioni a favore dello Stato, enti pubblici e organizzazioni internazionali riconosciute dallo Stato, ovvero per enti ed associazione riconosciute idonee all'amministrazione avente quindi una natura sociale, culturale o quant'altro. E poi vi sono le concessioni a canone ricognitivo che sono quelle non inferiori alle vecchie 100.000 lire e comunque al tributo erariale per enti e associazioni che svolgono attività socialmente utili per conto o su deleghe dall'amministrazione ovvero per enti e organizzazioni internazionali riconosciute dall'ONU. L'ultima tipologia è a canone convenzionato qualora enti e associazioni beneficiari realizzino progetti finalizzati per conto dell'amministrazione o forniscano servizi utili alla stessa. Riguardo la scelta del concessionario era previsto quindi ricorso alla licitazione privata o all'appalto concorso per le concessioni a canoni di mercato mentre per le altre, in caso di più richieste per lo stesso bene la preferenza sarebbe stata accordata alle attività di maggiore rilevanza culturale e sociale tenuto anche conto della rappresentività del richiedente una definizione che siete tutti d'accordo, penso tutt'altro che rigorosa per quanto riguarda invece la seconda deliberazione la 26.1995 a distanza quindi di poco più di dieci anni il regolamento per la regolazione intitolata regolamento per la regolizzazione e l'assegnazione ad uso sociale e vi compreso quello sanitario, politico ad eccezione dei partiti e loro articolazioni politico-organizzative di cui è la legge 194 del 1975 culturale, assistenziale, sindacale recreativo-sportivo e di tutela ambientale di spazi e strutture di proprietà comunali ascritti al patrimonio disponibile e indisponibile revoca della deliberazione numero 323 del 26 ottobro 1993 e regola parziale delle deliberazioni 5.625 dell'83 commissariali 103 del 93 e 104 del 93 è intervenuta corposamente sulla materia nei due aspetti riguardanti la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo formale accertate alla data del 31 dicembre del 2013 di beni immobili ascritti al patrimonio disponibile e indisponibile del Comune di Roma definendo quindi modalità e requisiti di accesso a tale regolarizzazione comprese poi le nuove assegnazioni di immobili sottoposse sostanzialmente agli stessi criteri ed anche in questo caso riguardanti sia il patrimonio disponibile che quello indisponibile la deliberazione quindi stabilisce le procedure amministrative da adottarsi e di soggetti coinvolti nell'ambito dell'amministrazione in buona sostanza viene previsto che le risultate della fase istruttoria seguita alla richiesta del soggetto interessato vengano trasmesse all'assessore al patrimonio che sentito il parere del Consiglio Municipale terriotalmente interessato impartisce agli uffici le direttive per la predisposizione delle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale quindi abbiamo compreso bene che la procedura è una procedura ampiamente legata alla discrezionalità per quanto riguarda il canone da applicarsi viene presa a riferimento la tipologia a canone ridotto di cui alla deliberazione del 1983 cosa abbastanza coerente con il fatto che questa seconda deliberazione fa riferimento prevalentemente ai soggetti interessati alla regolarizzazione o a una nuova concessione e quindi alla platea costituita da enti, fondazioni, associazioni e centri sociali autogestiti che esplicano attività di carattere sociale questa per quanto riguarda quindi la deliberazione 26 del 95 quella dell'anno dopo la 202 del 96 quindi l'ultima delle tre deliberazioni prese in considerazione pur essendo una semplice parziale modifica della precedente assume un particolare interesse per le vicende successive viene portata una modifica alla procedura di regolarizzazione e assegnazione di non secondaria importanza sul presupposto di verificare lungaggini temporali riscontrate nella procedura istruttoria di regolarizzazione e assegnazione considerate contrarie allo spirito della precedente deliberazione fissa in 120 giorni il termine perentorio di conclusione del procedimento istruttorio che deve portare all'emissione della deliberazione giuntale aggiungendo però la possibilità di una sorta di autorizzazione provvisoria all'uso dell'immobile nell'emore della conclusione della procedura allorché quindi tutte le attività svolte dalle associazioni o dai comitati rivestano forte valenza sociale e si configurino come servizi della collettività che non possono essere interrotti se non con gravi pregiudizi per l'utilità sociale e quindi si provvede alla regolarizzazione a tempo debito e all'assegnazione tramite ordinanza sindacale quindi viene ragionabilmente previsto che decorso il termine perentorio senza che sia stato adottato il provvedimento formale da parte della giunta comunale l'ordinanza sindacale diventa in un certo senso inefficace ma il senno del poi ha potuto verificare che di ordinanze sindacali ve ne sono state in abbondanza non altrettanto per quanto riguarda le regolari conclusioni del procedimento istruttorio concluse col provvedimento formale entro i canonici 120 giorni tale problema ci riporta all'attualità il richiamato disallineamento tra autorizzazione temporanea a mezzo ordinanza sindacale e provvedimento di concessione cioè regolarizzazione o assegnazione di natura formale e definitiva quindi sembra si sia trascinato nell'inerzia delle amministrazioni per circa vent'anni sin quando l'ultima amministrazione precedente la gestione commissariale ha ritenuto di mettere mano alla faccenda con la più conosciuta deliberazione di giunta comunale 140 del 2015 con la quale nell'ottica della considerazione del patrimonio capitolino quale bene comune e quindi da ricondurre al pieno e utile vantaggio per la collettività viene richiamata la necessità di intervenire sul piano del recupero dei beni utilizzati senza titolo e del recupero dei canoni non versati vengono quindi fornite sempre attraverso tali deliberazioni linee guida in ordine l'attività di riordino della gestione del patrimonio capitolino in questione sintetizzati nelle ormai famosi e famigerati cinque punti nei quali si tenta di dare qualche indicazione metodologica ed un ordine di proprietà alle attività di riacquisizione degli immobili a vario titolo occupati da soggetti in condizioni di irregolarità nei confronti dell'amministrazione si stabilisce che ove gli utilizzatori dei beni fossero già stati destinatari di provvedimento di rilascio e nei casi di attività a preminente carattere commerciale o comunque imprenditoriale si sarebbe proceduto in via prioritaria al recupero del bene e dalla definizione di bandi ad evidenza pubblica per la nuova eventuale riassegnazione salvo quindi la possibile riclassificazione dei beni già ad uso commerciale nell'ambito del patrimonio disponibile nei casi in cui l'utilizzazione del bene ricadesse nell'ambito delle attività di effettivo interesse pubblico e purché gli utilizzatori fossero in regola con il pagamento del canone ovvero si impegnassero a saldare eventuali pendenze entro 250 giorni le procedure di riacquisizione sarebbero state avviate successivamente rispetto a quelle precedentemente prese in considerazione nel caso gli utilizzatori fossero enti organismi e associazioni che svolgono attività socialmente utili su delega o per conto dell'amministrazione ovvero enti e organizzazioni riconosciute dall'ONU si sarebbe proceduto nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento del 1983 quindi la deliberazione numero 140 del 2015 poteva essere quindi una prima indicazione agli uffici sul come procedere nelle ormai improcrastinabili operazioni di riordino e ripristino della legittimità normativa con riguardo ai numerosi beni già affidati nel corso dei decenni precedenti in tal senso sovviene anche la deliberazione dell'attuale amministrazione la numero 19 del 2017 che tende a rafforzare e meglio precisare tale indicazione ove al comma 1 del dispositivo ribadisce la necessità di rispettare un razionale ordine di priorità negli interventi di riacquisizione dei beni e al comma 2 indica chiaramente l'opportunità necessità che prima di dare corso alle procedure coattive di recupero si acquisiscano tutte le informazioni occorrenti tramite quindi la necessaria collaborazione con la polizia municipale i municipi e comunque tutti i soggetti che sono in grado di fornire utili elementi a poter valutare le attività effettivamente svolte negli immobili in ordine alla loro rilevanza sociale e conseguentemente al rispetto dell'ordine di priorità nella esecuzione degli interventi così come definiti al comma 1 gli uffici dipartimentali pur con qualche ritardo anche motivato dagli eventi di cui si racconta nel prosieguo stanno complessivamente tenendo conto di tali indicazioni solo pochi giorni fa sono state inviate note di richiesta di informazioni ai corrispondenti gruppi territoriali di 10 municipi per un congruo numero di immobili già oggetto di notifica degli atti di riacquisizione da parte dell'amministrazione proprio al fine di accertare le attività effettivamente svolte in detti immobili e che siano gli attuali utilizzatori poiché tali note non erano state contestualmente inviate anche ai municipi e quindi nel dubbio che vi sia un continuo e coerente raccordo informativo tra comandi dei gruppi e organi di vertice dei municipi l'ufficio di staff assessorile ha comunque provveduto a darne notizia alle presidenze municipali a proposito di queste ultime si sono potuti osservare atteggiamenti decisamente difformi tra municipio e l'altro alcuni hanno ritenuto di segnalare che l'utilizzo di tutti gli immobili già oggetto di atto di riacquisizione risponde chiaramente ai requisiti di utilità sociale altri stanno perseguendo tenacemente il cosiddetto rapido sgombero di tutto ciò che nel loro territorio non è vincolato a concessioni ancora vigenti in ultimo va richiamato un ulteriore elemento decisivo riguardo le attuali difficoltà a dare coerenza nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento sulla concessione dei beni demagnali del patrimonio indisponibile alle attività gestionali riferite alla tipologia dei beni in questione in tempi relativamente recenti le ultime direzioni dipartimentali sono state oggetto di continui richiami da parte della procura generale della corte dei conti a provvedere al recupero dei beni e dei canoni non versati il procuratore in questione sembra abbia ritenuto di aggiungere la necessità che il recupero del canone arretrato quindi affardata dalla scadenza dell'eventuale atto concessorio sia basato sul ricalcolo del canone al 100% del valore di mercato gli uffici dipartimentali hanno comprensibilmente ritenuto di dare corso a tale suggerimento che poteva apparire come un'imposizione anche a fronte della messa in mora di precedenti responsabili del dipartimento che non avessero provveduto in tal senso se non che ed arriviamo finalmente ad oggi la corte dei conti ha adottato alcune prime sentenze nelle quali si smentisce seccamente tali pretese in questa sede si è presa riferimento specifico quella riguardante i locali della via della penitenza 33 gestita per attività teatrali dall'associazione Agora 80 eppur rilevando la dabbenaggine delle amministrazioni precedenti nella gestione del patrimonio e l'inerzia ingiustificabile nella riacquisizione degli immobili e nel recupero dei canoni non versati ritiene sostanzialmente illegittimo il suddetto ricalcolo la corte afferma il principio che se il canone a suo tempo richiesto per un determinato immobile censito quale bene rientrante nel patrimonio indisponibile e quindi vincolato prioritariamente ad attività socialmente utili è stato legittimamente calcolato sulla base del regolamento adottato dall'amministrazione per l'affidamento e la gestione di tale tipologia di beni il fatto che la originaria concessione sia venuta a scadenza e non sia stata rinnovata peraltro per inerzia dell'amministrazione non può motivare la pretesa nei confronti del concessionario ad un canone superiore calcolato sulla base di criteri diversi e assolutamente estranei all'oggetto del contendere l'eventuale reiterarsi di sentenze di tal fatta porrebbe certamente il problema dell'attuale legittimità degli atti nel frattempo emessi dal Dipartimento e nei quali si espressa tale pretesa economica se l'ipotesi di allunamento generalizzato di tali atti potrebbe apparire avventata poiché è troppo differenziata la casistica che si è accumulata nei decenni riguardo ai diversi profili di legittimità imputabili alle diverse occupazioni sarebbe certo utile un'approfondita valutazione delle sentenze della Corte dei Conti in rapporto agli atti già emessi per i quali si potrebbe semmai pensare ad una sospensione della loro efficacia per verificare ove le argomentazioni della Corte possano costituire un principio di generale nullità degli atti ovvero motivare l'attivazione di procedure di autotutela in riferimento ad alcuni di essi è questa materia che potrebbe essere utilmente oggetto di approfondimento da parte di chi dispone di specifiche competenze e soprattutto potestà regolamentari certamente però la questione richiede la valutazione dell'insieme delle condizioni che hanno portato al progressivo emergere del problema e che si è cercato di delineare in questa sede non a caso la Corte fa ripetutamente riferimento almeno nel caso che vi ho esposto alle richiamate deliberazioni del 1983 del 1995 e del 1996 la Corte si pronuncia quindi su richieste di canoni e non sulla correttezza delle assegnazioni a questo provvederà il regolamento nelle cui more è vigente la delibera di giunta già richiamata la numero 19 del 2017 che impone agli uffici di dare priorità alla riacquisizione di immobili dove non operino associazioni socio-culturali in sintesi le associazioni socio-culturali che attualmente gestiscono immobili senza regolare concessione non rischiano l'esecuzione dei provvedimenti di riacquisizione e non rischiano di dover pagare canoni di mercato calcolati al 100% la rilevanza di tale problematica è anche evidenziata dal numero degli immobili stessi interessati dai dati di massima acquisiti dagli uffici dipartimentali a quali abbiamo richiesto informazioni molto dettagliate emerge una situazione in cui attualmente 787 immobili in concessioni abbiano soltanto una quota molto limitata per 15 concessioni vigenti non scadute per altri 200 circa vi sono le condizioni per un possibile rinnovo la cui però definizione sarebbe sospesa in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento i rimanenti si trovano conseguentemente in posizione di irregolarità formale nella fase attuale quindi caratterizzata dal margine di incertezza derivante dalle recenti sentenze nonché dall'imminente discussione in aula del nuovo regolamento si è giunti a una fase di sostanziale fermo anche sul versante delle riacquisizioni cosa che tutto sommato appare ragionevole tale atteggiamento in linea con il contributo dato anche da Codesto Assessorato in materia di salvaguardia dalla esecuzione coattiva delle procedure di riacquisizione e in caso di situazioni relative a servizi di pubblica utilità gestite da associazioni meritevoli di tutela relativamente a tali aspetti va rilevato che la proposta di deliberazione di iniziativa consigliare concerniente il nuovo regolamento per la gestione diretta in concessione dei beni appartenenti al patrimonio demaniale e indisponibile di Roma Capitale prevede anche una norma transitoria appunto nelle more dell'attribuzione delle nuove concessioni la possibilità di autorizzare in via temporaria quale regolarizzazione su istanza di parte la prosecuzione nell'uso dei beni nei caso in cui gli utilizzatori siano titolari di un contratto ormai scaduto o di un'assegnazione ancorché non definitiva quindi non si fa menzione della possibilità che agli stessi venga richiesto un importo diverso da quello corrispondente ai canoni di concessione dovuti originariamente dalla data di scadenza della concessione fino alla data di presentazione dell'istanza ovvero cessazione dell'utilizzo del bene quindi tale regolamento che appunto è stato depositato e al quale ha contribuito in parte anche questo assessorato oltre a definire le modalità gestionali della fase transitoria definisce in modo più rigoroso dei precedenti l'attribuzione delle competenze gestionali tra le diverse strutture di Roma Capitale le tipologie di concessione le procedure di assegnazione i requisiti richiesti per accedere all'affidamento del bene nonché le categorie di attività a favore della comunità cittadina che possono consentire la riduzione del canone a tal proposito sono previsti due possibili livelli di abbattimento del canone cioè ridotto dell'80% nel caso in cui le attività siano effettuate a titolo gratuito dietroversamento di un contributo simbolico o del 60% nel caso in cui oltre alle attività principali di cui al caso precedente vengano svolte anche attività che prevedano un corrispettivo economico ripeto queste sono soltanto delle pure ipotesi il regolamento è ancora in fase di elaborazione è stato depositato ma sarà oggetto di discussione è prevista inoltre la possibilità per l'amministrazione di disporre a seguito di specifico atto della giunta catitolina di adottare concessioni ad uso gratuito per servizi pubblici resi a titolo gratuito e ritenuti di specifica rilevanza ovvero sussidiari o complementari alle attività istituzionali svolti con la partecipazione diretta o indiretta dell'amministrazione quindi è utile ricordare infine l'obbligo che sarà poi previsto a regime per i soggetti che intendono partecipare all'assegnazione dei beni di iscrizione ad un apposito albo istituito quindi questi sono gli elementi che abbiamo ricostruito in merito a questa delibera 140 del 2015 ripeto è un'attività quella che stiamo conducendo adesso non soltanto a livello politico ma anche a livello amministrativo molto complessa in quanto si sono stratificate tantissime situazioni che sono difficili da dirimere una per una pertanto un'analisi all'interno di un tavolo di coordinamento in cui possano essere rivalutate e riviste tante di questi provvedimenti rappresentano certamente un punto di approdo che riteniamo utile per evitare che si realizzino ulteriori disservizi e criticità proprio nell'ambito della gestione di questo patrimonio vi ringrazio che riteniamo che riteniamo che riteniamo che riteniamo Grazie a tutti